ben ritrovati cari fratelli cari sorelle per questo nuovo studio stiamo guardando un po i conflitti e quali sono naturalmente le possibili reazioni di fronte a un conflitto oggi vedremo quando è più utile trovare un compromesso tra virgolette in un conflitto le altre volte abbiamo visto che ci sono diverse reazioni che possiamo avere di fronte a un conflitto e sono reazioni diverse possono essere evitare il conflitto cioè la fuga dominare sull'altro io vinco tu perdi trovare un compromesso che vedremo questa sera io perdo tu perdi cedere sacrificarsi io perdo tu vinci oppure collaborare con l'altro nessuno perde come abbiamo detto tutte queste volte non c'è una strategia migliore delle altre dipende tutto naturalmente dalla relazione e dalla situazione e anche da che cos'è in ballo abbiamo visto che magari al prima lettura no di queste soluzioni possono dire no questa non va mai bene per esempio evitare conflitto la fuga in realtà abbiamo visto che a volte è bene evitare la fuga evitare il conflitto con la fuga a volte non è bene dipende la situazione anche l'altra volta abbiamo visto dominare sull'altro io vinco tu perdi abbiamo pensato magari leggendo subito a questa non va mai bene in realtà abbiamo visto che questa reazione un conflitto va bene quando quando per esempio un bambino è sopra una terrazza che sta naturalmente facendo le cose pericolose dove noi ci imponiamo diciamo tu scendi subito non è che iniziamo una trattativa oppure chiedere perché stai lì o altre cose del genere quindi abbiamo visto che non c'è una strategia migliore delle altre dipende dalla relazione e dalla situazione e anche questo terzo atteggiamento che vedremo questa sera trovare un compromesso io perdo tu perdi non sempre va bene a volte andrà bene a volte no dipende dalla situazione in tutto questo noi dobbiamo imparare ad essere saggi per capire quali sono le varie situazioni allora per vedere un po il terzo reazione trovare un compromesso possiamo dire che la frase ci sacrifichiamo entrambi io non ho quello che voglio ma neanche tu hai quello che vuoi naturalmente letto così può sembrare qualcosa di negativo a volte naturalmente lo è a volte no facciamo subito un esempio di un compromesso in cui entrambe le persone perdono immaginiamo c'è marito e moglie la moglie vuole fare una passeggiata con il marito il marito invece vuole vedere in televisione la partita allora trovano compromesso vanno a fare una passeggiata insieme però il marito ha le cuffiette per sentire la partita questo è io perdo tu perdi perché perché il marito non può guardare la partita la televisione ma solo ascoltarla la moglie sta facendo sì una passeggiata con il marito al fianco ma il marito al fianco è assente perché naturalmente ha le cuffiette ed ascolta la partita quindi hanno trovato un compromesso però alla fine questo compromesso non funziona tanto bene perché perché alla fine la moglie insoddisfatta e anche il marito insoddisfatto un modo più intelligente sarebbe stato quello magari ok finiamo di guardare la partita e poi andiamo a fare una passeggiata quindi trovare una soluzione non una soluzione intermedia a volte non soddisfa nessuno completamente quindi ancora una volta diciamo dipende tutto dalla situazione che noi stiamo vivendo allora questo trovare un compromesso un po una via di mezzo una soluzione intermedia che però alla fine può non soddisfare nessuno completamente però quando è utile il compromesso in conflitto quindi abbiamo visto che a volte può anche andare bene se la posta in gioco è insignificante quindi se naturalmente non perdiamo grandi cose possiamo utilizzare questo compromesso ad esempio se tu vuoi andare al mcdonald e io voglio andare in un ristorante di lusso è facile mettersi d'accordo per magari una pizzeria quindi saremo un po soddisfatti perché mangeremo una pizza però da una parte l'altra persona che voleva andare al mcdonald non va al mcdonald l'altra persona che vuole andare al ristorante di lusso non va al ristorante di lusso si trovano in una via intermedia però naturalmente la posta in gioco possiamo dire è insignificante quindi si può trovare un compromesso per una cosa del genere oppure quando è utile il compromesso in un conflitto anche per trovare rapidamente una soluzione in fretta infatti quando si fa un compromesso del genere quindi troviamo una via di mezzo si guadagna tante volte tempo energia c'è anche un'immediata diminuzione della tensione l'atmosfera si distende e possiamo dire che è un po una tattica di disnesco che non fa scoppiare la bomba no quindi si inizia a parlare io voglio andare qua tu vuoi andare di qua c'è questo batti becco magari si dice ok ci troviamoci nel mezzo così non si va magari un conflitto più pesante quindi il compromesso non è sbagliato in assoluto naturalmente dipende da che compromesso facciamo altro esempio una persona vuoi andare a mare l'altra in montagna allora si decide facciamo un compromesso questa settimana andiamo al mare la prossima settimana andiamo in montagna quindi è un compromesso un compromesso abbastanza semplice in cui si dice ok questa settimana andiamo al mare la prossima montagna sembra che tutti e due possono essere soddisfatti però dipende perché magari la persona dice no io oggi voglio andare il mare oppure io oggi voglio andare in montagna e non la prossima settimana quindi ancora una volta dobbiamo vedere se la posta in gioco è qualcosa di insignificante oppure di poco conto oppure anche quando si parla di cose importanti vi faccio un esempio in un paese dove c'era un regime in cui c'era anche la persecuzione verso le chiese cristiane c'era era stata fatta una conferenza e poi durante questa conferenza è stata fatta la cena del signore con i bicchieri non entriamo naturalmente nel merito bicchierini o calici però voglio sottolineare una cosa importante allora in questa conferenza in cui hanno deciso di fare la cena del signore con i bicchierini c'era una persona che veniva da un'altra nazione ed era un po indignata per questi bicchierini allora è andata tutta arrabbiata verso i responsabili a dire ma com'è possibile che abbiamo fatto la cena del signore con i bicchierini e ha detto di tutto e di più dicendo noi il calice eccetera eccetera e arrabbiandosi dicendo no non siete fedeli queste cose qui e a un certo punto la persona responsabile che stava in questa nazione in cui c'era questo regime che naturalmente voleva schiacciare il cristianesimo ha detto questa cosa allora lo stato cerca di fare di tutto per farci chiudere le chiese e se noi facciamo la cena del signore con unico calice ci chiude una chiesa in due secondi per la salute quindi quello che abbiamo dovuto fare è decidere o chiudiamo la chiesa o non facciamo proprio la cena del signore oppure non ci sono altre soluzioni e quindi naturalmente hanno detto che facciamo la cena del signore con i bicchierini sempre meglio questo che niente oppure addirittura chiudere la chiesa naturalmente la persona che si era arrabbiata che in quel modo così forte che veniva naturalmente un'altra nazione non riusciva a capire questa cosa e quindi si era arrabbiato tanto però poi quando ha capito qual era la situazione si è vergognata ancora di più quindi qui vediamo un compromesso no io perdo tu perdi però almeno si può andare avanti naturalmente non stiamo parlando di compromettere dottrine fondamentali della fede stiamo parlando di cose che in cui si può fare qualcosa vediamo un esempio biblico in cui Gesù utilizza questa tecnica no chiamiamola così trovare un compromesso io perdo tu perdi anche se naturalmente Gesù non perde mai però vogliamo leggere questo brano Matteo capitolo 21 da versetto 23 al 27 quando giunse nel tempio i capi dei sacerdoti e gli anziani e il popolo si accostarono a lui mentre gli insegnava e gli dissero con quale autorità fai tu queste cose e che ti ha dato questa autorità Gesù rispose loro anch'io vi farò una domanda se voi mi risponderete vi dirò anch'io con quelle autorità faccio queste cose il battesimo e il giovanni da dove veniva dal cielo o dagli uomini ed essi ragionavano tra di loro se diciamo dal cielo e gli ciderà perché dunque non gli credeste se diciamo dagli uomini temiamo la folla perché tutti ritengono giovanni un profeta risposero dunque a Gesù non lo sappiamo ed anche egli disse e neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose da qui la situazione che farisei volevano fare in modo che Gesù dicesse che la sua autorità venisse direttamente a dio per accusarlo di che cosa per accusarlo naturalmente di bestemmia e condannarlo a morte qui notiamo la saggezza di Gesù come ha saputo disinnescare questo conflitto no perché perché naturalmente i farisei i capi sacerdoti volevano da Gesù la risposta io faccio questa autorità con l'autorità di dio per accusarlo di bestemmia e metterlo a morte Gesù non voleva rispondere e allora ha utilizzato questo questo modo se voi rispondete alla mia domanda anch'io risponderò alla vostra e poi visto che voi non avete risposto alla mia allora neanche io rispondo alla vostra naturalmente a Gesù non interessava veramente la risposta ai farisei perché naturalmente già conosceva quale era la risposta però in questo modo Gesù ha disteso una situazione non ha fatto scoppiare in quel momento la bomba Gesù fece questo per far cadere in trappola i capi religiosi nella loro stessa trappola e quindi ha fatto questo compromesso ok se volete che io risponda alla domanda rispondetemi prima alla mia domanda e poi visto che naturalmente loro non hanno voluto rispondere Gesù dice anche io non vi rispondo e quindi ha utilizzato questo tecnica chiamiamo trovare un compromesso io perdo tu perdi naturalmente Gesù non perde niente perché Gesù non interessava naturalmente quella risposta però è interessante vedere come Gesù ha disteso una situazione in cui c'era diciamo delle persone che volevano accusarlo un altro passo interessante che riguarda un compromesso io perdo tu perdi anche se dopo non c'è una reale perdita perché magari quando pensiamo perdita pensiamo qualcosa di grave ma naturalmente anche in cui questo brano vedremo che non c'è una perdita grave allora atti capitolo 15 da versetto 36 a 41 qui c'è Paolo che si divide da Barnaba è un passaggio che abbiamo già studiato nei studi passati quindi vedremo solo alcune cose non andremo in profondità allora leggiamo dopo diversi giorni Paolo disse a Barnaba ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunciato la parola del Signore per vedere come stanno Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in panfiglia e non li aveva accompagnati nella loro opera nacque un aspro di senso al punto che si separarono Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro Paolo invece scelse Sila e partì raccomandato dei fratelli alla grazia del Signore e percorsero la Siria e la Cilicia rafforzando le chiese quindi questo è il brano in cui vediamo che Paolo e Barnaba si dividono però diciamo subito alcune cose essenziali su questo brano innanzitutto questo brano non giustifica le divisioni nelle chiese perché perché tanti usano questo brano come una scusa tra virgolette biblica per la divisione chiese dicono eh ma anche Paolo e Barnaba si sono divisi ma qui Paolo e Barnaba non hanno diviso nessuna chiesa prima cosa importante da sottolineare quindi questo brano non giustifica le divisioni nelle chiese non ci sono scuse bibliche per la divisione nella chiesa punto 2 questa separazione questa divisione è una separazione non a causa del peccato perché non ha peccato né Paolo né Barnaba ma è piuttosto una divisione perché Dio li stava guidando in due diverse direzioni che fra un po' vedremo quindi importante quindi non giustifica le divisioni nelle chiese è una separazione non a causa del peccato ma per una guida diversa da parte di Dio terzo punto importante non è una separazione a livello di rapporto ma piuttosto di ministerio da svolgere eh perché perché tante volte persone dicono Paolo e Barnaba si sono divise quindi anche noi ci dividiamo con altri credenti non ci parliamo più anzi sparliamo gli uni degli altri litighiamo ed altro ma questo brano non ci insegna questo perché Paolo e Barnaba si sono separati hanno fatto un ministero diverso ma la loro stima l'uno verso l'altro è rimasta la stessa infatti vedremo poi che anche nelle lettere di Paolo Paolo parla bene di Barnaba e parlerà bene anche di Marco quindi non c'era una fine di rapporto come invece tante volte persone che dicono sì però anche Paolo e Barnaba si sono divisi e si sentono giustificati magari di parlare male di altri fratelli tutto questo non funziona quindi questo brano non insegna queste cose quindi questo brano non ha niente a che fare con la divisione a chiesa ma piuttosto a che fare col concetto di ministero e di visione quindi questo brano Dio stava chiamando Paolo a fare qualcosa e Barnaba a fare ad altro si sta parlando di persone adatte per ministeri adatti questo è quello che ci vuole insegnare questo brano ci vuole parlare anche di visioni di obiettivi e di chiamate diverse un concetto che porta non è conformismo quindi ok Dio ci ha chiamati a fare prima un ministero insieme poi a un certo punto ci chiama a fare un ministero uno da una parte uno dall'altra ma questo non significa che non ci si parla più oppure che si arrabbiati gli uni con gli altri oppure che si parla male l'uno dell'altro quindi qual era il problema qual era il problema di questo brano allora innanzitutto pensiamo sia Paolo che Barnaba presumevano questa è una parola importante presumevano di dover continuare a stare insieme facendo lo stesso ministero mentre Dio invece ora aveva due chiamate differenti e questo creò tensione fra di loro quindi Paolo e Barnaba pensavano che dovevano continuare a fare un ministero insieme invece la realtà non era così perché Dio stava chiamando Paolo a una cosa e Barnaba all'altra quindi ci troviamo di fronte alle mie convinzioni contro le tue convinzioni o meglio in questo caso la chiamata di Paolo contro la chiamata di Barnaba quindi ritornando naturalmente al brano vediamo che Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco però Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato con loro già prima quindi per questo nacque un aspro di senso allora Dio a questo punto della storia li stava semplicemente guidando in due direzioni diverse infatti dalla storia vediamo che Dio continuò ad operare potentemente in entrambi quindi non è che dobbiamo dire chi aveva ragione Paolo o Barnaba avevano ragione tutti e due perché Dio li stava chiamando in due direzioni diverse facciamo un esempio molto semplice immaginiamo che Dio ci chiami ad evangelizzare con un altro fratello iniziamo un ministero di evangelizzazione per un anno quindi lo facciamo sempre insieme sempre insieme poi a un certo punto Dio dice ok tu continui ad evangelizzare l'altra persona invece adesso inizia a predicare e quindi ognuno prenderebbe una strada diversa il problema è se magari quello che evangelizza dice eh Dio mi ha chiamato ad evangelizzare quindi anche tu devi continuare a evangelizzare oppure chi ha chiamato Dio a predicare dice eh no tu non devi continuare a evangelizzare devi venire a predicare con me no Dio vi aveva chiamato prima a fare un ministero insieme poi adesso le strade si separano ma questo non significa divisione o qualcosa di negativo significa semplicemente andare in due direzioni diverse quindi la chiamata di Paolo era una una chiamata con una visione pioneristica continuare quindi a evangelizzare a fondare nuove chiese dove in zone davvero pericolose perché a quel tempo quelle zone in cui eh Paolo naturalmente evangelizzava erano zone pericolose sia per quanto riguardava l'evangelizzazione ma anche semplicemente per viaggiare in quelle zone allora che cosa era successo prima che ha portato questo eh questa questione riguardo a Giovanni detto Marco atti 12 versetto 25 dice che Barnaba e Saulo Saulo sarebbe Paolo compiuta la loro missione tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni detto anche Marco allora qui c'è il primo viaggio missionario di Paolo a un certo punto Barnaba e Saulo o Paolo prendono con sé Giovanni detto Marco atti capitolo 13 versetto 5 dice giunti a Salamina annunciarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante quindi Giovanni detto Marco sempre questo quindi loro continuano il viaggio missionario vediamo che Giovanni era con loro come aiutante poi però a un certo punto succede qualcosa atti capitolo 13 versetto 13 Paolo e i suoi compagni imbarcatosi a Paffo arrivarono a Perga di Panfiglia ma Giovanni detto Marco mettiamo tra parentesi separatosi da loro ritornò a Gerusalemme quindi a un certo punto Giovanni detto Marco nel primo viaggio missionario a un certo punto abbandona Paolo e Barnaba e se ne torna a Gerusalemme allora perché Marco a un certo punto abbandona questa missione non c'è scritto però probabilmente perché aveva paura ed era una paura giustificata perché perché erano zone davvero pericolose sia per evangelizzare che semplicemente per viaggiare ma ancora di più per evangelizzare perché perché c'erano persecuzioni forti e molto probabilmente Marco che è ancora giovane sia per quanto riguarda l'età ma anche sia per quanto riguarda la fede a un certo punto si è impaurito e ha deciso di ritornare a Gerusalemme e quindi a questo punto Paolo pensava ok non è buono portare di nuovo Giovanni detto Marco quindi il versetto atti 15-38 dice proprio questo ma Paolo ritenendo che non dovevano prendere uno che si era separato da loro genro figlia e non li aveva accompagnati nella loro opera perché perché Paolo sapeva quanta dura persecuzione avrebbero subito ancora in questo viaggio forse ancora di più del primo viaggio e quindi dice non conviene portare Marco perché perché è stato abbastanza debole nel primo viaggio quindi non portiamolo perché poi ci sarà un problema perché perché la chiamata di Paolo era continuare ad evangelizzare però dall'altra parte c'era la chiamata di Barnaba la chiamata di Barnaba che vediamo proprio la scrittura lui era consolatore incoraggiare i debole a questo punto Dio probabilmente lo stava chiamando proprio a recuperare Marco e quindi vediamo che da una parte ce l'ha chiamata di Paolo continuare a evangelizzare l'altra parte ce l'ha chiamata di Barnaba recuperare Marco i due presumevano che dovevano rimanere insieme ma molto probabilmente questo non era il piano di Dio perché perché Dio stava chiamando Paolo a evangelizzare e a Barnaba a recuperare Marco chiaramente chiaramente le loro due chiamate oppure vedute erano incompatibili ma tutto questo perché perché pensavano che dovevano continuare a lavorare insieme e quindi nessuno dei due voleva accedere nel senso Paolo dice Dio mi ha chiamato a evangelizzare devo andare però non voglio Marco e l'altra parte c'era Barnaba che dice Dio mi ha chiamato a recuperare Marco quindi io vengo con te Paolo però devo portare anche Marco ma erano incompatibili queste due chiamate queste due visioni queste due ministeri che Dio stava dando in questo momento quindi Paolo non era disposto a partire con Marco e Barnaba non era disposto a partire senza Marco e perciò anche andando avanti nella scrittura leggiamo quello che succede a certo punto nacque un aspro dissenso al punto che si separarono Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro Paolo eccetera eccetera qui la prima cosa che è da sottolineare è che l'aspro dissenso non significa che si sono presi a male parole piene di veleno o qualcos'altro ma l'aspro si riferisce al dissenso e significa che avevano una forte divergenza di opinioni quindi aspro non significa che si sono parlati male perché anche qui tante volte dice però qua dice che Paolo e Barnaba hanno avuto un aspro dissenso quindi ce ne possiamo dire di tutto no non sta dicendo questo sta dicendo che l'aspro dissenso riguardava la chiamata al punto che si separarono perché perché Paolo era sicuro che doveva evangelizzare Barnaba era sicuro che doveva prendersi cura di Marco e quindi c'era questo aspro dissenso non queste forte divergenza di opinioni quindi aspro è il dissenso aspro è riferito al dissenso lo scontro di visione e non ai toni aspro quindi ancora ripeto è dissenso non i toni e questo lo vediamo perché perché nessuno dei due a un certo punto parla male dell'altro anzi Paolo citerà come un suo pari Barnaba e parlare bene anche di Marco quindi non significa che loro si sono arrabbiati e si sono divisi non si sono parlati più o che hanno parlato male l'uno degli altri assolutamente no e tante volte noi invece leggiamo questo brano giustificando la divisione chiesa il poter parlare male degli altri il non avere comunione con fratello con una sorella quando in realtà questo brano non ci insegna nulla di tutto questo ci dice semplicemente che c'era un disaccordo perché ognuno aveva una chiamata diversa da parte di dio e quindi uno andrò in andò in una direzione e uno nell'altro naturalmente è trovare un compromesso cioè io perdo tu perdi perché perché Paolo voleva con sé Barnaba però non ha potuto e quindi ha preso Sila e dall'altra parte Barnaba voleva Marco però voleva magari stare anche con con Paolo però non è stato possibile quindi io perdo e tu perdi possiamo di sentire in maniera a volte anche forte con altri credenti su varie questioni che non sono naturalmente dottrine fondamentali o dogmi come abbiamo detto tante volte ma senza però peccare verso fratello che noi abbiamo accanto quindi cosa significa questo significa che possiamo avere una divergenza di opinioni anche abbastanza forte ma non per questo la nostra reazione deve essere forte quindi se dio a me chiama a fare una cosa a te un'altra non posso obbligarti a fare quello che dio sta chiamando a fare me e viceversa non è possibile il contrario come dice filippo melantone nelle cose essenziali c'è l'unità nelle cose di secondaria importanza libertà in tutte le altre cose amore quindi questo è una frase molto importante per ognuno di noi da ricordare perché perché nelle cose essenziali ci deve essere unità su quei dogmi Gesù e Dio la parola di Dio o i cinque sola poi dall'altra parte in seconda nelle cose di secondaria importanza cioè in dottrine che non sono fondamentali libertà ok studiamo andiamo avanti tu la pensi così io penso così studiamo insieme e poi in tutte le cose ci deve essere amore quindi non bisogna obbligare una persona a fare alcuna cosa che magari dio non sta chiamando a fare a quella persona magari sta chiamando a te in tutto questo cosa ci deve essere rispetto quindi disaccordo differenze opinioni ci possono essere ma ci deve essere sempre rispetto non sia obbligati a lavorare insieme su certe cose ma non per questo ci deve essere scomunica oppure maldicenza come purtroppo tante volte può capitare invece paolo e barnaba ci dimostra come ci come loro si sono divisi non divisione per peccato o per l'altro divisione semplicemente uno prende una direzione una l'altra però si rimane in comunione la parola di dio stessa ci dice che dobbiamo stimare i fratelli più di noi stessi o come noi stessi ma la domanda è realmente stimiamo quelli che hanno opinioni diverse da nostre come noi stessi o pensiamo che dobbiamo piuttosto commentirli magari alle nostre idee quindi noi possiamo essere in disaccordo su alcune questioni secondarie eppure collaborare ugualmente insieme quando il mondo vede credenti dei fratelli che lavorano magari insieme ai batteisti e pentecostali amandosi l'uno l'altro il mondo guardando potrà dire guarda come si ama invece di vedere quello che purtroppo tante volte si vede che divisioni è un parlare male l'uno dell'altro che a volte si vuole anche addirittura giustificare con questo brano biblico che abbiamo visto o che stiamo vedendo questa sera quindi bisogna imparare a dissentire senza tenere rancore è una cosa importante ma non sempre tanto semplice da attuare dobbiamo imparare quindi amare anche con chi non si è d'accordo quindi paolo ha portato con sessila in luoghi pericolosi ma avete notato invece dove barnaba porta marco quindi paolo ha continuato la sua chiamata a evangelizzare in questi luoghi in cui c'era del pericolo però barnaba dove porta marco barnaba prese con sé marco e si imbarcò per cipro lo porta a cipro dove erano di casa e non in luoghi pericolosi lì non c'era nessun pericolo per marco e lì marco è potuto crescere è potuto diventare anche più avanti si vedrà che diventerà il figlio spirituale di pietro quindi sia paolo che barnaba hanno continuato la loro missione quello che dio ha chiamato prima li ha chiamati evangelizzare insieme poi li ha chiamato paolo evangelizzare e a barnaba a fortificare marco entrambi hanno fatto la volontà di dio dio infatti ha benedetto sia paolo che barnaba nel loro ministerio ciò che ha fatto barnaba era giusto ciò che ha fatto paolo era giusto ognuno naturalmente ha seguito la propria chiamata quindi non dobbiamo vedere questa separazione come una divisione come avviene a volte in chiesa ma semplicemente come un prendere una direzione diversa però rimanendo in comunione se marco fosse andato magari con paolo lo avrebbe potuto distruggere quel viaggio ricordiamo che paolo e sila sono stati incarcerati con i ceppi ai piedi ingiustamente immaginiamo marco che se era ancora debole la fede in una situazione del genere quindi paolo evangelizzò e barnaba recuperò marco paolo evangelizzò e barnaba recuperò marco al punto che anni più tardi paolo schiste dello stesso marco queste parole colossesi 410 vi salutano aristarco mio compagno il prigionario marco il cugino di barnaba a proposito del quale avete ricevuto istruzione se viene da voi accoglietelo ho scritto anche secondo timoto 4 11 solo luca è con me prendi marco e conducilo con te poiché mi è molto utile per il ministero quindi con l'aiuto di barnaba marco è stato recuperato al punto che è stato scelto come collaboratore utile nel ministero con paolo è compagno d'opera e da pietro come figlio tra virgolette quindi vediamo che paolo non ce l'aveva con marco non ce l'aveva con barnaba non parlo mai male né dell'uno né dell'altro anzi paolo e barnaba non si scomunicarono a vicenda e nemmeno parlarono male l'uno dell'altro quindi paolo e barnaba non parlarono mai male a vicenda su questa loro divisione paolo addirittura lo menziona come un suo pari prima corinzi 9 6 7 o siamo soltanto io e barnaba vedete io barnaba a non avere il diritto di lavorare chi mai fai soldato a proprie spese chi pianta una vigna e non ne mangia frutto o chi pascola un greggio e non si ciba del latte del greggio quindi qui vediamo che paolo difende il suo ministero difende anche l'aiuto economico proprio anche per barnaba che dice chi mai fai soldato a proprie spese quindi sta difendendo in certo senso anche barnaba da tutto questo vediamo che il brano che abbiamo visto prima non parla di una divisione in cui si tagliano tutti i rapporti oppure che si parla male l'uno dell'altro ma sta parlando di una separazione perché c'era una divergenza di chiamate in quel momento quindi è sbagliato rompere un rapporto per una differenza che non riguarda naturalmente il peccato una dottrina essenziale magari sbagliata quindi rivedendo un po questo brano che abbiamo visto questa sera di paolo e barnaba ripetiamo che non giustifica le divisioni nelle chiese era una separazione non a livello di rapporto ma di ministero da svolgere il problema qual era era che sia che paolo che barnaba presumevano di dover continuare a stare insieme facendo lo stesso ministero mentre dio invece aveva in quel momento due chiamate differenti e questo creò tensione fra di loro perché perché pensavano che dovevano rimanere insieme invece in quel momento dovevano separarsi chi è andare a evangelizzare e chi a recuperare marco quindi paolo e barnaba non si scomunicare una vicenda e nemmeno parlare normale l'uno dell'altro quindi ancora una volta questo brano non possiamo utilizzarlo quando magari si litiga con qualche altro fratello o sorella e dicendo eh sì però anche paolo e barnaba l'hanno fatto no non hanno fatto nulla di tutto questo quindi questa sera abbiamo visto un'altra possibile reazione di fronte a un conflitto trovare un compromesso io perdo tu perdi non stiamo parlando di perdite grandi no come abbiamo visto e anche qui dobbiamo capire quando utilizzare questa possibile reazione a un conflitto dipende dai circostanze dipende dalle situazioni dipende da che cos'è in gioco e quindi a volte utilizzeremo questo reazione oppure utilizzeremo un'altra eviteremo il conflitto oppure domineremo sull'altro naturalmente non dobbiamo guardarli come negativi perché li stiamo vedendo uno per uno proprio in questo modo per vedere che c'è il lato positivo e lato negativo è importante capire quando utilizzarlo nel modo giusto una determinata reazione quindi stiamo vedendo che non c'è una strategia migliore dell'altra dipende dalla relazione alla situazione e quello che noi dobbiamo imparare è avere proprio questa saggezza di capire bene le situazioni e come abbiamo visto Gesù ha utilizzato la fuga ha utilizzato dominare sull'altro ha utilizzato trovare un compromesso quindi come abbiamo visto questa sera se voi mi date la risposta a me la domanda anche io ve la do non me la date ok neanche io non ve la do e così ha disinnescato diciamo un conflitto in cui voleva mettere in cattiva luce Gesù quindi per noi che stiamo studiando questi brani sono importanti queste reazioni di fronte a un conflitto li vediamo uno alla volta proprio per poterli assimilare bene e capire bene quindi quando ci troviamo di fronte a situazione dobbiamo chiederci qual è la reazione migliore in questo momento posso cedere non devo cedere è inutile magari discutere quindi utilizzo la fuga oppure deve impormi perché questo bambino sta facendo una cosa sbagliata prima che cade giù dalla ringhiera devo dire no scendi non è che dico ma perché stai lì e no mi impongo perché perché in quel momento è giusto così quindi stiamo vedendo queste possibili reazioni in fronte a un conflitto e che dio ci aiuti a capirle e utilizzare nel modo giusto perché a volte può essere giusto e a volte sbagliato e che dio veramente ci dia la saggezza tramite naturalmente la guida dello spirito santo a capire quando usare una reazione e quando usare un'altra e che dio ci benedica amen